Grazie Presidente. Non c'è nulla di strano perché la discussione che è stata fatta in aula ha fatto emergere delle criticità e dunque la maggioranza ha fatto una valutazione che forse questa delibera ha bisogno di alcuni approfondimenti che non erano stati evidenziati prima. Per cui non c'è nulla di strano, nulla di particolare per cui probabilmente anche qualche consigliere di maggioranza anzi sicuramente voterà a favore della delibera però nell'ambito della discussione come giusto che sia si è arrivati ad una conclusione che forse è bene fare degli approfondimenti che poi vanno nella direzione di quello che sostanzialmente ha anche dichiarato Fratelli Italia, probabilmente il consigliere De Primo ha anche contribuito a convincere qualche consigliere di maggioranza. A far sì che ci debba essere un approfondimento per cui non c'è nulla di strano, nessuna spaccatura, niente di trascendentale, è semplicemente che la discussione ha fatto emergere un problema e dunque la maggioranza chiede, ritiene o meglio almeno una parte della maggioranza perché ripeto alcuni sicuramente voteranno a favore, ritiene che ci si debba astenere per fare dei approfondimenti e far sì che il documento possa eventualmente essere ripresentato. Grazie